Ballaraga dal vostro Zedcastle, bentornati sul canale youtube di Lega Nerd, torniamo a parlare di Loki, praticamente non stiamo facendo altro perché ogni puntata riserva una sorpresa e la sorpresa di questa settimana riguarda la vera identità del personaggio che si è tolto finalmente il cappuccio e si è rivelato a tutti noi nel secondo episodio, boom! Ed eccoci allora ragazzi, Loki, finalmente la grande rivelazione del secondo episodio come avevamo immaginato in tanti effettivamente, il personaggio misterioso sotto a quel cappuccio che sta seminando il panico nella sacra linea temporale e sta facendo fuori gli agenti della TVA uno dietro l'altro si è rivelato e si è rivelato essere un personaggio di sesso femminile Sofia Di Martino, che già sapevamo era nel cast appunto di questa serie Disney+, si è rivelata e tutti quanti abbiamo detto, oh finalmente è arrivata Lady Loki, come nei fumetti come c'era, diciamo, stato fatto intuire anche dal fatto che la scheda di Loki riporta che il suo gender è fluid è proprio un'identità sessuale fluida, abbiamo detto finalmente Lady Loki, come nel fumetto Loki si è già trovato a vestire i panni di una donna, trovandosi anche particolarmente a proprio agio e tutto questo sarebbe anche ok, andrebbe anche bene fino a che non è esplosa una bomba nel web una cosa, un particolare che ci ha fatto notare che poi la verità potrebbe essere un'altra e il corso degli eventi potrebbe essere decisamente diverso per questo dobbiamo andare a guardare innanzitutto un particolare cioè quando Loki a un certo punto si rivolge a Sofia Di Martino, l'attrice, chiamandola appunto Loki per nome e lei fa una faccia schifata e dice, non chiamarmi con quel nome, oppure ancora con quel nome come se la cosa le desse fastidio, come se non le appartenesse, già questo era un primo indizio ma la vera bomba viene sui titoli di coda del secondo episodio dove effettivamente, nella parte dedicata ai credits per la lingua in castigliano troviamo che il personaggio di Sofia Di Martino, che in tutte le altre lingue viene semplicemente battezzato con il ruolo di la variante, in realtà troviamo un nome, un nome proprio il nome di Sylvie questa cosa ha acceso immediatamente delle lampadine, grosse così nella testa di tutti chi è Sylvie? allora, Sylvie ci farebbe pensare al personaggio di Sylvie Lushton ovvero la seconda incantatrice, una sorta di incantatrice alternativa ad Amora il personaggio classico poi inventato da Stan Lee e Jack Kirby nella serie quella classica iniziale di Thor un personaggio che, originario dell'Oklahoma, giovane, giovanissima ha ricevuto i suoi poteri praticamente in maniera del tutto inaspettata da Loki stesso, che voleva sperimentare cosa volesse dire trasformare un umano in un asgardiano che è una sorta di operazione durante poi tutti gli eventi della serie di J.M. Straczynski e Olivier Quapelle, ovvero il ritorno del dio del tuono quando Asgard viene trasferita sopra il deserto dell'Oklahoma creando questo personaggio la cosa interessante legata al personaggio di Sylvie Lushton è che per un po' di tempo è stata affiliata al team degli Young Avengers insieme ad Hulkling, insieme a Billy e Wiccan che già abbiamo conosciuto e questo è un indizio importante perché in tutti gli ultimi prodotti, a partire da WandaVision ci stanno facendo una testa tanta con quelli che potrebbero diventare membri degli Young Avengers in futuro in un film o in una serie tv dedicata perché abbiamo già visto Billy, Wiccan e Speed due personaggi figli di Wanda Maximoff in WandaVision abbiamo visto il nipote di Isaiah Bradley, ovvero patriota nei fumetti sappiamo che dovrà uscire una serie tv dedicata a Kate Bishop secondo occhio di Falco, la secondo occhio di Falco ma ci sono altri personaggi Miss Marvel, Kamala Khan, una serie su Ironheart, Riri Williams che in realtà fanno parte dei Champions ma potrebbero essere amalgamati in una nuova squadra che potremmo chiamare Young Avengers in una sorta di mashup assolutamente non inedito per quanto riguarda Marvel Studios e questo tipo di produzioni quindi questo potrebbe essere un ulteriore segnale di un prossimo futuro e probabilmente veramente molto vicino annuncio riguardo ad un prodotto legato agli Young Avengers se la vecchia guardia se ne va magari entra quella nuova che ne dite ma la cosa interessante è che durante l'episodio quando Loki esamina la documentazione della TVA relativa appunto al suo caso a un certo punto c'è uno schedario che riporta un nome ben preciso Sylvie Luffy Dottir ovvero Sylvie figlia di Luffy e questo genera un'altra idea ancora non ci staremo trovando allora di fronte all'incantatrice o la seconda incantatrice ma una cosa che fanno spesso in Marvel Studios ovvero quello di mashupare diverse versioni di personaggi realmente esistenti nei fumetti in questo caso è una sorta di what if cosa sarebbe successo se Luffy il signore dei giganti del ghiaccio di Jotunheim avesse avuto una figlia e non un figlio quindi da qualche punto di vista potremmo definire che sì, Sylvie Luffy Dottir è Loki o meglio una versione alternativa di Loki questo darebbe appunto al suo personaggio tutto quel fastidio nel sentirsi appellata in quella maniera questo cambierebbe decisamente molto l'ordine delle cose perché è vero che ci troviamo di fronte a un personaggio che per ruolo, per attitudine è assimilabile a Loki ma non lo è dal tutto, ok? aprendo di nuovo le porte al grande concetto di what if comunque grandissimo colpo d'occhio per riuscire innanzitutto arrivare fino in fondo ai titoli di coda e poi anche per guardare questo schedario della TVA in cui è riportato questo nome quindi sarebbe improprio chiamare il personaggio interpretato da Sofia De Martino come Lady Loki non esisterebbe Lady Loki esisterebbe solo Sylvie Luffy Dottir e questa è una cosa veramente importante insomma Loki continua a rivelarci sorprese e la cosa che più mi fa impazzire è che continui a seminare anche degli indizi dei depistaggi in una serie che ha per protagonista il dio degli inganni e questa per me è una cosa meravigliosa e geniale e quindi questa è la novità della settimana legata alla serie TV di Loki poi noi ci vediamo per tutti gli appuntamenti, i dettagli ogni mercoledì con i vari articoli legati agli easter egg e al giovedì poi con Face4 in diretta sul canale Twitch ciao a tutti da Zatcastle, yeah!